Signori buonasera, non aspettatevi Un oratore come quelli due signori che mi hanno preceduto prima, io mi esprimerò in maniera semplice e umile. Mi chiamo Fabretti Bruno, sono Danimis. La mia gioventù è stata triste. A 16 anni, a causa della fame che si provava nei tempi, sono andato volontario sotto le armi. Prima avevo un fratello che era già andato prima, aveva due anni più di me. E io sono andato dopo per non soffrire la fame. Volontario a Roma nel reggimento chimico, poi in Albania, con l'undicesimo reggimento alpini, battaglione Bassano. Era il 1939, ottobre. Eravamo assieme ai tedeschi. Poi nel febbraio del 40 abbiamo invaso la Grecia. E io ero in servizio sul ponte di Corinto, a fare dei servizi. Si andò avanti sempre così, assieme ai tedeschi, fino all'8 settembre del 1943, quando l'Italia, purtroppo, firmò l'armistizio con gli alleati. E noi italiani fumo completamente abbandonati dalla nostra madrepatria, nei territori fuori dell'Italia. I tedeschi, prima amici, poi sono diventati nemici perché li avevamo traditi. E ci cercavano da tutte le parti per farci prigionieri. Io riuscì a scappare per tante volte, ma alla fine mi hanno preso mentre dormivo in una cabina telefonica ad Atene. Mi hanno trasferito nel campo di Gudì, vicino a Atene, e poi quale prigioniero militare mi hanno trasferito, assieme a tanti altri, nel campo polacco di Loz. Cinque giorni di viaggio, stretti nelle cabine. Siamo arrivati a Loz, in questo campo, ma era un campo che non aveva reticolati. Erano le baracche, i posti letto, al posto dei nazisti, soldati nazisti, erano della Wehrmacht, che comandavano il campo. E ci trattavano abbastanza bene. La mattina si si alzava dai letti, ci davano qualcosa da mangiare, poi si portavano fuori, con il camio fuori della città, a lavorare. La sera si rientrava, ci davano ancora da mangiare, si stava bene. Eravamo prigionieri militari, al lavoro quattro. Dopo due mesi, però, io e un triestino, col carattere avventuroso, come tanti giovani di oggi, abbiamo detto, è no, dobbiamo fuggire. E siamo fuggiti. Abbiamo impiegato 54 giorni da Loz arrivare a Jugoslavia. Eravamo, meno male che eravamo in inverno, e c'era la facilità di poter passare a Guado tutti quei fiumi, il Danubio e altri fiumi, perché erano ghiacciati, si riusciva a passare sopra, perché tutti i ponti di questi fiumi erano controllati dai tedeschi. Quindi noi altri ci potevamo passare soltanto camminando sopra il ghiaccio dei fiumi. Siamo arrivati in Jugoslavia, oggi Slovenia. Io e il mio amico triestino si siamo lasciati, lui è andato a Trieste, io ho varcato il confine. E a Gorizia qualcuno, non mi ricordo chi più, mi disse che Tarcento e Nimis erano invasi dai tedeschi e dai cosacchi. Allora io, per non farmi prendere di nuovo, sono salito sulle montagne della pediamontana friulana, a Salandri e a Porzus, a fare il partigiano. Erano il battaglione partigiani di Garigualdini, prima e poi in quello dell'Osoppo. Mesi e mesi di combattimenti da una parte e dall'altra. Poi dovete sapere che alla fine, il 27 settembre del 44, i tedeschi e i cosacchi hanno invaso tutta la pedemontana friulana, hanno messo a ferrofuoco tutti i nostri paesi. Sedili di Tarcento, Nimis, Atemis, Faeli, Storreano, Riccividale e parte di Povoletto, sono i paesi che sono stati bruciati completamente. E tutta la gente è obbligata ad evacuare verso Tarcento, abbandonando tutti i loro averi, la casa e i loro averi. Noi nel bosco, io mi sono salvato per puro miracolo, mentre decine e decine di partigiani sono rimasti fucilati nel bosco. Io mi sono salvato perché conoscevo molto bene la zona alpina locale e sono andato verso nord. Però dopo due giorni sono rientrato nella parte nord del paese, cercando di vedere la mia famiglia, che erano più di quattro anni e che io non la vedevo, ma non l'ho vista. E io camminavo con questa colonna di gente, tutti con caretti, cariole, e tutti portavano fuori tutto quello che potevano dal paese per salvare, perché perdevano tutto. In fondo a ogni paese c'era la scelta. I tedeschi entravano nella colonna di gente e tiravano fuori tutti i ragazzi dai 15 ai 30 anni, ragazze e ragazzi, e li mettevano in un grosso cortile che sta in fondo al paese. E anche me mi hanno tolto fuori e mi hanno messo lì, mentre la colonna continuava l'esodo verso Tarcento, con queste cariole, queste donne, questi bambini. A noi altri la sera ci hanno preso, messi in colonna, scortati dai cosacchi e a piedi fino a Udine, e 18 chilometri, nelle prigioni di via Spalato. Io mi ricordo che eravamo in una cella, tutti uno sopra l'altro, non si poteva neanche dormire. Due giorni in queste celle, poi alla stazione ferroviaria. A stazione ferroviaria ci dissero che ci portavano a lavorare in Germania. Allora siamo pacificati, mi hanno detto, beh, si è andata bene. Ci hanno caricato su un trasporto che preveniva da San Saba di Trieste, e dopo quattro giorni siamo arrivati a Dachau. A Dachau siamo arrivati una mattina, ci hanno incolonato i soldati dell'ASS locali, abbiamo attraversato questo piccolo paesino, oggi una bellissima cittadina, e appena fuori del fabbricato del paese siamo arrivati davanti a un grande portone, chiuso, con quella scritta famosa Arbeit McFrey, il lavoro vi rende liberi. Io ho pensato, ma come mai? Allora ci portano in prigione, non ci portano a lavorare, perché nessuno in Italia, nessuno sapeva che c'erano questi campi di concentramento in Germania. A un certo momento hanno aperto il portone, ci hanno fatto attraversare questo grande piazzale, ci hanno fatto entrare un grosso capannone, oggi adibito al museo del campo, ci hanno tolto tutti i nostri vestiti, ci hanno rasato tutto il corpo completamente, e poi due alla volta ci doveva entrare un grosso tino, alto così, ricolmo di clorina, era per fare la disinfestazione, erano bruciori terribili, restava fuori solo il collo e la testa, e due deportati ai lati con delle scoppe tiroravano anche la testa. Poi dovevi uscire fuori, nella parte sinistra c'erano le docce, dovevi lavarti lì, e poi, nudo come eri, dovevi continuare a camminare lungo il cappannone, dove c'erano tanti banchetti pronti, con dei deportati seduti accanto, con una candela accesa. Si doveva arrivare lì, sedersi sulla sedia, dare l'avambraccio sinistro, e questo deportato che era lì, prendeva un ago, lo arroventava sulla fiammella della candela, toccava nell'inchiostro di china, e ti faceva il numero sull'avambraccio sinistro. Il mio numero è 62.588. Poi, più in giù, c'erano attigliavano la divisa, come questa, righe blu, una giacca, un paio di pantaloni, un purillo sulla testa, e un paio di ciabatte di tela, già usate da altri morti. Poi dovevo uscire fuori, sul piazzale. Oltre il tatuaggio sull'avambraccio sinistro, anche sulla giacca, qui sopra, veniva messo il numero. Nella piazzale l'atto venivi poi selezionato per essere messo nelle baracche. A Dachau le baracche erano 36, contenevano 650 deportati ciascuna. Si dormiva nelle lettine a castello, senza coperte, senza niente, vestiti. A Dachau siamo rimasti due mesi. Io ero con i miei compaesani, 52 miei compaesani, friulani, italiani. C'era dialogo. Non ci facevano lavorare a Dachau. Ci buttavano fuori dalla baracca alle 5 del mattino e alla sera rientravi. Due mesi, come dicevo, siamo rimasti lì. Poi, tutto un tratto, ci hanno caricato di nuovo sui treni e dopo 5 giorni siamo arrivati a Noigamme, a sud, 24 chilometri a sud di Hamburgo. Quello era un campo crudele, proprio il più crudele che io ho passato. Siamo arrivati di mattina lì, dopo quel viaggio di 5 giorni, chiusi in questo vagone bestiame. sulla sinistra c'era un secchio dove si andava a fare i bisogni. C'era una punta tremenda nel vagone. Siamo arrivati di mattina all'alba. Hanno aperto questi vagoni, queste porte dei vagoni, gridando, e con tubi di gomma lunghi, così, gomma dura, davano giù legnate e gridavano «Snell, scendere!» gridavano per tedesco e davano giù legnate. Gli dovevano scendere di corsa, andare via insieme in fila verso il portone del lager. Ai lati della strada c'erano le SS con i fucili puntati e il canilupo accanto. Siamo arrivati al piazzale, lì ci hanno selezionato e poi ci hanno portati nelle baracche. A Noigamme le baracche erano molto più grandi, li contenevano 2.500 deportati ciascuno. La sorpresa più brutta che abbiamo trovato era il capò. Il capò era un delinquente tedesco, anche lui, vestito come noi, aveva sulla manica sinistra qua una fascia bianca. Lui era responsabile della disciplina della baracca. Era una bestia feroce, anche lui con quel tubo di gomma ti dava degli ordini, tu non capivi quello che diceva, ti dava giù delle legnate che cadevi divenuto per terra. Era una bestia feroce. Ogni mattina alle 5 era la sveglia. Lui, questo delinquente, gridava una sola volta Austin! Dovevi subito alzarti in piedi, uscire fuori dal letto, levare la giacca, uscire fuori un piccolo cortile che stava lì, lavarti nell'acqua ghiacciata ed eravamo già in inverno inoltrato, poi rientrare e uscire con lui per l'appello del mattino. Un appello che durava un'ora e mezza e anche più. c'era il tedesco che chiamava il numero di matricola, il numero tatuato, 62.588. In tedesco non si capiva niente e si chiedeva e questo è questo a quello vicino di noi, ma nessuno ti rispondeva perché ognuno doveva pensare per il proprio conto. Allora quello là il tedesco mandava dentro un altro suo collega a cercare quel numero che mancava finché te lo trovava, ma quando te lo trovava lui gridava IA al suo collega, ma ti dava giù delle bastonate tremende perché non avevi risposto. Finito l'appello c'era il pranzo della giornata. Arrivavano dei portati con dei caretti e sopra avevano il mangiare e distribuivano pezzettini di pane così, una fettina di pane così, pane nero, con su spalmata un po' di margherina. Che si è saputo poi che questa margherina non era altro che un ritrovato scientifico dei medici dei lager tratto dai nostri stessi cadaveri. Poi, finito questo pranzo, si mangiava questo pranzo così, nascosto, perché c'era paura che ci caresse qualche briciola per terra, ma c'era anche la paura che qualcuno accanto te lo rubasse e allora se te lo rubava non avevi più nient'altro in tutta la giornata da mangiare. Poi lì ti facevano c'era un porticciolo con delle chiatte ti facevano salire sulle chiatte 200-250 deportati per chiatta trainati da motoscafo lì sono tanti fiumi in quel posto lì e dopo due ore arrivavi al porto di Hamburgo si doveva lavorare dalla mattina alla sera a pulire ruderi dalle strade dai magazzini tutto il giorno poi la sera si rientrava a mezzogiorno ogni giorno ogni giorno a mezzogiorno in punto venivano gli inglesi e gli americani a bombardare il porto e la città di Hamburgo i tedeschi che ci guardavano andavano nei rifugi mentre noi si doveva continuare a lavorare anche sotto le bombe questo lavoro la sera si suonava a casa morti pieni di fame e io mi ricordo che quando si rientrava in quella brutta varacca buia puzzolenta ero io con i miei compaesani ci si fermava a discutere un po' perché quando si ha fame si parla solo di mangiare e si usava a fare il menù della serata chi faceva il più bel menù della serata gli davamo sotto piano piano un applauso poi si andava nel lettino e il nostro pensiero andava a casa mia io erano quasi cinque anni che non vedevo la mia famiglia e pensavo chissà se i miei sanno dove sono ma poi il mio pensiero andava a Dio Dio perché che cosa abbiamo commesso di così grave per meritarti tutte queste sofferenze ma poi il sonno la stanchezza ti prendeva e ricominciava il giorno dopo in questo campo migliaia e migliaia di persone tra cui tutti i miei compaesani friulani italiani a un certo certo tempo non c'era più nessuno io in questo campo sono rimasto solo non avevo più nessuno friulano nessuno paesano perché dovete sapere che in questa zona di Hamburgo sono tante le fabbriche quindi hanno tolto tutta la manodopera possibile di questo campo e li hanno messi a lavorare nelle fabbriche io sono rimasto solo in questo campo assieme a russi polacchi cecoslovacchi francesi tutte le qualità non c'era più dialogo con nessuno ma io ebbi la fortuna perché dico che la fortuna mi ha sempre assistito di diventare grande amico dei deportati russi mi volevano molto bene mi chiamavano sempre Italo caro so caro italiano io non conoscevo la loro lingua loro non anche la mia ma si faceva tutto a gesti e mi proteggevano sempre da tutte le cose che potevano capitare nei campi con loro andavo a lavorare sempre ogni mattina al porto di Hamburgo un giorno qualcuno mi aveva detto che durante il bombardamento loro avrebbero tentato di fuggire ma io non ho capito niente perché non capivo sicché un giorno suonò l'allarme aereo eravamo sul porto di Hamburgo l'allarme aereo a mezzogiorno ogni giorno a mezzogiorno bombardavano il porto e la grande città di Hamburgo cominciò a suonare l'allarme aereo i tedeschi andavano sempre nei rifugi mentre noi si lavorava in continuazione cominciano a cadere le bombe da una parte e dall'altra è caduta una bomba vicino a me mi ha colpito a me nella parte destra del fianco e la gamba sinistra e sono caduto per terra nella pozza di sangue non ho sentito che i russi gli amici russi gridavano per scappare non li ho visti non ho saputo niente finito il bombardamento i tedeschi sono usciti fuori dai loro rifugi hanno fatto raccogliere tutti i feriti compreso me mi hanno riportato al campo e al campo due amici rimasti ancora dentro non erano fuggiti rimasti con me mi hanno preso me sotto le ascelle e mi hanno portato alla baracca e io mi ricordo ancora oggi il capò sulla porta vedendomi tutto insanguinato ha fatto questo gesto mi ricorderò sempre quel gesto lì tanto a dire che niente nella baracca non nella baracca ma sopra un cumul di cadavere che stava fuori dalla porta io mi ricordo due cose era la vigilia di Natale del 44 e sul frontespizio della porta c'era il grande termometro che segnava la temperatura 24 gradi sotto zero loro obbligati mi hanno gettato sopra questo cumulo di cadavere io non so più nient'altro diversi anni dopo diversi anni dopo assieme con un pellegrinaggio di ragazzi delle scuole ho visitato Bergen-Belsen e io andavo alla ricerca di fotografie di testi per mettere su questo libro e andai nell'archivio loro per vedere se trovavo qualche nominativo dei miei compaesani o di qualche cosa e con sorpresa ho letto Fabretti Bruno italiano numero di matricola 62.588 arrivato a Bergen-Belsen il 2 gennaio ripartito per Buche e Valti il giorno 18 gennaio quindi anche lì sono rimasto 16 giorni ma io non ricordo nulla è una pagina buia ho cercato di fare delle fotografie di visitare il campo senza baracche non c'erano più baracche non ho visto nulla che mi ricordasse qualche cosa però ricordo molto bene Buche e Valt Buche e Valt è a 7 km a nord di Weimar su una grande colina è un campo grandissimo era da una parte un campo di donne e dalla parte un campo di uomini ai primi giorni me mi hanno messo con tanti altri a tirare un grosso rullo di cemento per spianare il grande piazzale dell'appello avevo tutta la divisa davanti qua anerrita perché il sangue prima rossa poi si rattrappisce diventa nero e stavo giù gomme come sono adesso con tutti gli anni che ho e io cercavo di stare dritto più che potevo perché se loro fossero accorti che io non ero nella potenzialità di poter lavorare al 100% mi avrebbero subito passato la camera gas e al crematorio sarei finito ma ebbi la fortuna anche lì che mi assistiva di essere trasferito a un altro lavoro ero trasferito nel grande stabile dove c'erano i forni crematori ancora visibili sono sei grossi forni io ero nel primo assieme a un cecoslovacco si andava con un cavallo metallico in cima al fabbricato lì si prendevano su uno per i piedi uno per le mani si caricavano i cadaveri che venivano portati su nel piano sopra da sotto con un montacarico a mano uno per i piedi l'altro per le braccia si caricava sul carrello si arrivava al nostro forno e lì con un forcone si spingevano dentro 14 15 cadaveri alla volta si chiudeva la porta del forno e in 15 20 minuti questi cadaveri venivano cremati nella parte posteriore del forno c'erano altri deportati che levavano le ceneri le caricavano sulle carriole e le portavano fuori dove c'erano dei carri agricoli che caricavano queste ceneri per portare nei loro campi quale concime ma c'erano anche dei camion comunali che caricavano le ceneri per portare nella cittadina di Weimar per spargerli sulla strada come noi facciamo col sale per sciogliere il ghiaccio e la neve il mio turno era dalle 7 del mattino alle 7 di sera poi c'era il turno dalle 7 di sera alle 7 del mattino eravamo obbligati a metterne su non uno meno di 500 nel nostro turno e così tutti gli altri perché c'era quello della SS vicino che ti controllava tutto quindi pensate quanti cadaveri in 24 ore venivano cremati in questi forni era cioè il mio turno finiva alle 7 di sera poi andavo nella baracca questo lavoro durò fino al giorno 5 aprile 45 il giorno 5 aprile 45 io ero già sulla sponda del letto pronto per scattare da quell'urlo tremendo di quella bestiaccia del capò e non abbiamo sentito niente non abbiamo sentito quell'urlo di Augustein allora nel buio della baracca ci sentiamo uno vicino all'altro per dire cosa sarà successo abbiamo atteso che venga giorno e qualcuno è andato a vedere sulla porta cosa era successo e ci è venuto anche un dubbio perché durante le noti prima si sentiva tuoni lampi e si pensava che fosse qualche temporale primaverile eravamo in aprile c'era un dubbio abbiamo aperto questa porta dalla baracca perché prima nessuno poteva uscire dalla porta della baracca perché se non era assieme il capò c'era la mitraglia che ti sparava e ti uccideva piano piano abbiamo guardato la garetta non c'era più la mitraglia non c'era più abbiamo guardato di fronte le casermette dei soldati tedeschi erano chiuse abbiamo capito di essere arrivati alla fine e che quei tuoni quei lampi era il fronte alleato che avanzava quindi loro per non farsi prendere hanno chiuso il campo messo la corrente elettrica ne ha reticolati e sono fuggiti allora noi piano piano io assieme a questi amici deportati russi che mi tenevano quasi quasi per la mano perché non ristruivano neanche a stare in piedi più siamo usciti dalla porta su questo grande piazzale pieno di morti e si andava a rubare la giacca i pantaloni perché era ancora freddo e si andava nelle tasche a vedere se c'era qualche patata qualche frutto qualche cosa di pane niente ma i russi si erano i deputati russi si erano attrezzati avevano pezzettini di lamiera di barattolo e tagliavano pelle dai morti e mangiavano e mi dicevano anche tu fai così ma io non sono mai riuscito perché mi sono ricordato che vicino alla mia baracca c'era una latrina a cielo aperto dove tutti noi si andavamo a fare i bisogni i tedeschi prima di scappare ancora la prima dalla cucina buttavano sempre le bucce di patate in questa melma e poi con un legno giravano così in modo che noi non si andassero a prenderle su mi sono ricordato di questo particolare mi sono recato sul luogo e con la mano cercavo nella melma queste bucce di patate le pulivo e le mangiavo e con questo cibo sono riuscito ad arrivare fino al giorno 9 aprile 45 la mattina del 9 al 9 la mattina giravo io come un ubriaco accanto alle baracche per vedere se trovavo qualche filo d'erba da mangiare non trovavo niente e ho visto i miei compagni i miei amici russi che confabulavano fra di loro mi sono avvicinato e loro mi hanno fatto capire che di lì a poco sarebbero fuggiti e di fatti dopo pochi minuti con dei travi dei legni hanno fatto un varco nei reticolati dell'alcolate elettrica mi hanno preso me sotto le ascelle e mi hanno portato fuori e mi hanno fatto cenno di andare giù verso Weimar costeggiando il bosco loro sono andati dalla parte opposta non li ho più visti io con le poche forze che avevo ho raggiunto un boschetto vicino un cinquantino di metri vicino mi sono seduto accanto a delle frasche e sono rimasto lì tutta la giornata e tutta la notte del nove il giorno dieci mattina ai primi albori mi sono alzato lentamente con le forze che mi erano rimaste e costeggiando il bosco sono andato giù verso Weimar ma a metà strada ho visto dei contadini tedeschi che seminavano delle patate nel loro campo mi sono fermato nascosto quando loro sono andati via io come un gatto ho raggiunto questo campo levando la terra fresca trovavo quelle belle patate avvolte nelle tame le pulivo e le mangiavo quello è stato il primo pranzo che io ho fatto in libertà poi sempre costeggiando il bosco sono arrivato nella periferia della cittadina di Weimar e ho visto degli americani che facevano opposto riblocco sulla strada mi sono recato da loro loro vedendomi con questa divisa qui mi hanno subito abbracciato caricata su una macchina e mi hanno portato nella loro infermeria la prima cosa che mi hanno fatto mi hanno pesato pesavo 34 kg poi mi ricordo bene io che mi hanno fatto tante altre cose ma quello che ricordo nella dottoressa americana è stata più di due ore per levarmi da sotto le ciglia le tante piattole che avevo gli americani ricevevano quando arrivavano fuori dai campi o dalle fabbriche soltanto italiani in un campo sportivo hanno fatto una tendopoli ci hanno messo lì però ci hanno detto dopo qualche giorno che loro non potevano portarsi in Italia perché dovevano cambiare località perché dovete sapere che la Germania dopo la vittoria degli alleati è stata divisa in quattro zone inglese americana americana francese e russa quindi in quel posto che c'erano gli americani dovevano arrivare i russi ci hanno salutato sono partiti nell'indomani sono arrivati i carri armati russi ci hanno preso in consegna loro dopo con noi ci trattavano molto bene per loro avevano vinto dalla vittoria e ogni sera grandi festeggiamenti tori allo spiedo vodka musica suoni e noi sempre con loro eravamo si stava bene ci davano da mangiare di tutto però io mi ricordo che ho messo un pezzo di carne in bocca l'ho masticata per quasi due ore poi l'ho sputtata fuori intera come era perché non avevamo la forza delle mandibole per poter masticare col mangiare decine e decine di deportati dopo liberati sono morti anche a me mi è venuta la risenteria febbre pettechiale e tante altre malattie e un medico tedesco che era con gli americani mi ha curato ma guarito e devo averlo visto sono rimasto vivo i russi ci dissero che non potevano portarsi in Italia attraversando la Germania ma se vogliamo andare con loro ci portano in Italia via Odessa ci hanno caricato su un treno un mese circa col treno e siamo arrivati alla città di Odessa fuori della città ci hanno messo in una fattoria di contadini e hanno detto state qua se volete lavorare con loro lavorate se no state qua mangiate bevete finché noi veniamo a prendervi che li portiamo in Italia era la fine di aprile 45 ci siamo venuti a prenderci il primo dicembre 45 da 34 chili pesavo già 48 ci siamo caricati su una nave da trasporto e dopo 20 giorni siamo arrivati a Brindisi a Brindisi le autorità la Croce Rossa a prenderci sulla nave ci hanno portati in una caserma ci hanno tolto il nostro vestito tutto lurido ci hanno dato un vestito nuovo però ci dissero che in questa caserma noi si doveva fare la quarantena io avevo altri due amici friulani deportati con me lì e io ho detto loro ma guardate io non sono d'accordo io manco da casa da oltre sei anni che non vedo la mia famiglia io non sto qua a fare 40 giorni di stare qua loro d'accordo anche loro abbiamo varcato il muro della caserma abbiamo raggiunto la stazione ferroviaria abbiamo individuato un treno che andava al nord era pieno di tronchi d'albero siamo saliti sopra siamo nascosti e poi siamo trovati a essere a Mestre a Mestre la polizia ferroviaria ci ha tirati giù ci ha dato da mangiare da bere un biglietto di prima classe siamo arrivati a Udine a Udine siamo salutati io ho preso la corriera sono arrivato a Nemes davanti alla mia casa un cumulo di macerie non c'era nessuno ho atteso circa 15 minuti poi è passato un ragazzo che era un mio cugino e ha detto Giuseppe dove sono i miei? e lui con la testa bassa Bruno dice tuo papà è morto tuo fratello che era paracautista è morto in combattimento hai la mamma che è sforata a Tarcento allora io piano piano mi sono avviato verso Tarcento a piedi e sono andato dal paroco locale il paroco ha guardato sulla rubrica e dice sì signor Quavretti la sua mamma è stata ospite qua da noi però è stata trasferita a Buia a piedi sempre a Buia dallo stesso pa da un altro paroco è stata trasferita a San Daniele del Friuli e a San Daniele del Friuli non l'ho trovata ho girato più di 15 giorni per il Friuli per cercarla non la trovavo ero sul punto di uccidermi non avevo casa non avevo famiglia non avevo un futuro come può vivere una persona ma una voce che ancora oggi dico ma da dove è venuta dal cielo forse mi ha detto che la mia mamma è giù a Feletto Umberto vicino a Udine io a piedi sempre mi sono recato giù non sapevo cosa fare sono andato dal paroco e il paroco mi dice ma non si chiama Bertoni sua madre sì Bertoni si chiama sia tranquillo l'ho io fatta ospitare in una famiglia di via del Trump a Feletto Umberto venga che l'accompagno mi ha accompagnato lì poi quando siamo arrivati alla casa dove c'era la mia mamma lui mi ha detto signor Fabretti si fermi qua che vado a preparare la sua mamma io mi sono fermato ero tremavo dalla commozione ho visto tanta gente della borgata venire fuori e venire vicino a me dopo pochi minuti io avevo tra le mie braccia la mia mamma la stringevo con tutte le mie forze avevo il mondo intero tra le mie braccia non sapete cosa sia l'amore della mamma la cosa più importante della nostra vita la stringevo piangevamo tutti quanti anche quelli che erano presenti lì io ricordo in questa borgata tanta gente che mi portava una camicia un paio di scarpe qualche cosa non avevo niente io ma noi i friulani non siamo abituati a tanta cordialità dopo una settimana io sono partito per Udine sono andato a Udine all'ufficio di collocamento per trovarmi un lavoro perché io intendevo portare la mamma al mio paese sono andato lì ho atteso la fila che c'era davanti a me quando è arrivato il mio momento l'impiegato mi disse lei che mestiere fa io dico non ho fatto nessun mestiere io sono appena tornato dalla Germania dei campi di concentramento e vorrei trovare un lavoro per poter tornare al mio paese e lui mi fissa così con un occhio cinico ma tu dici non sei Bruno Fabretti oh Dio come fa a conoscermi ho detto io ma non ti ricordi che eravamo a Dachau insieme non me lo ricordavo e dove sei adesso sono a Feletto Umberto dammi l'indirizzo ti trovo io un buon lavoro e di fatti mi ha trovato un buon lavoro dopo una settimana mi è arrivata una raccomandata ero stato assunto quale guardia giurata presso la brigata alpina Iulia di Udine allora ho preso la raccomandata sono andato al comando busso alla porta dell'ufficio del comandante un maggiore alpino io sono Fabretti dico no venga venga avanti quando ero vicino a lui non mi ha lasciato parlare mi ha abbracciato e mi ha portato direttamente all'ufficio cassa e mi ha fatto consegnare una busta paga di una mensilità senza aver lavorato eravamo a gennaio e mi disse Fabretti vada a casa vada a riposare venga a prendere il servizio il giorno 15 febbraio prossimo io lo ringrazio che tenevo duro quella busta qua in mano così e quando sono sulla porta mi dice ah un'altra cosa signor Fabretti per essere assunto mi deve portare un certificato di quinta classe io dico di sì vado a casa mamma guarda qua 2240 lire vedrai che presto torneremo a casa e intanto che lei guardavo quelle banconote sorpresa mi viene in testa il certificato di quinta classe io non l'ho mai avuto perché ero in terza elementare in quella volta là e una volta le maestre di allora non avevano la sigaretta ma c'era la mia maestra che tabaccava e io e io ero quello che andava ogni mattina a prendere 10-15 centesimi di tabacco zenzilio lo allungavo con un po' di cenere e glielo consegnavo e per quel motivo lei non mi ha mai promosso in quarta e in quinta ho fatto sei anni sempre in terza elementare poi mi hanno cacciato via perché non c'erano le medie allora ho detto io mamma rimetti tutti i soldi dentro perché dice lei non ho il certificato di quinta classe ho perso il lavoro però mi sono ricordato che a tricesimo c'era il maestro Masotti un mio amico nelle scuole elementari era lunedì c'era mercato mi sono recato su da lui e gli ho proposto il mio problema Bruno dice non c'è nessun problema c'è il direttore didattico in sede ti faccio fare subito il certificato e me l'ha fatto però mi è costato caro sei uova e un chilo di asparagi e con questo certificato sono stato assunto completamente allora in questa caserma io di giorno controllavo le entrate e le uscite la sera quando mi toccava il turno notturno chiudevo tutto e restavo solo allora in quella volta li scrivevo il mio diario che è questo non ero bravo a scrivere ma mi piaceva fare disegni vedete è tutto così è tutto così scritto questo è il diario che io ho scritto appena tornato a casa quando ero di notte in servizio là poi dopo quando sono stato alla RAI nel 95 a Roma Magali mi ha aiutato a stampare questo libro qui che poi ho rifatto di nuovo che se ve lo volete poi qui fuori lo trovate questo libro qui a 160 fotografie tra cui anche belle letterine che trovavo io nei campi quando andavo a fare pellegrinaggi ma è una cosa è una letterina qua che ho ricevuto poco tempo fa da una ragazza di un istituto e mi dice vediamo dove è eccola qua pensare come era una ragazza di Codroipo studente del liceo scientifico Marinelli in una lunga lettera mi dice signor Fabretti mi piacerebbe conoscere il suo punto di vista sapere come è la sua fede come vede Dio anche perché mi è piaciuto quando nella sua conferenza ha affermato di essere salvato attraverso la fede in Dio in mezzo quel proliferare di male a quel dilagare di condizione umana come poteva un uomo trovare ancora Dio ma voi ridotti in condizioni disperate dove avete trovato Dio dove avete trovato la forza per credere ancora in Lui alle volte io non riesco a trovare Dio nel mio mondo fatto di bene mi può insegnare signor Fabretti a riforzare la fede che cresce in me come un albero ancora fragile eccetera 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 io ho avuto un po' di difficoltà a rispondere allora io ho scritto così nella mia semplice risposta a questa ragazza travagliata dai dubbi le ebbe a dire si racconta che un lager degli ebrei assieme a un rabbino hanno fatto il processo a Dio proprio partendo da quello che vedevano e vivevano dopo un'approfondita discussione durata giorni e giorni il rabbino con altre sei persone si ritirò in camera di consiglio poi fu emessa la sentenza il rabbino si alzò in piedi e disse Dio è colpevole di crurele latitanza ed è condannato a chiedere scusa a tutti noi e messa la sentenza approvata dai presenti il rabbino continuò e adesso cari amici ricominciamo a pregare un ragazzo un ragazzo delle medie di della Carnia di Moggio Udinese mi fece una domanda e disse ma signor Fabretti ma con quello che lei ha provato con le sofferenze che ha subito e tutto il resto quando lei è tornato a casa per vendicarsi quanti tedeschi ha ucciso cosa avrei dovuto fare adesso io partire da Nimi andare sulla statale guardare il primo tedesco e sparargli no io quando ero ancora feletto Umberto quando andavo a dormire c'era la mia mamma ai piedi del letto che mi assistiva perché io durante il sonno gridavo urlavo gemevo sudavo io con lei e grazie al mio lavoro sono tornato al mio paese ho ricostruito la mia casa mi sono formato una famiglia ho figli e tanti nipoti e pronipoti e sono un uomo felice perché io ho perdonato perché nel perdono io ho trovato la forza di rivivere e di vivere serenamente grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.